Il comune di Sapri punta al potenziamento della raccolta differenziata e dopo la recente installazione dei bidoni per il deposito degli oli esausti si prepara a posizionare per le vie del paese gli ecocompattatori per plastica e alluminio. Nel giro di tre settimane sarà individuata l'azienda che dovrà occuparsi del servizio. Un'importante società ha già mostrato interesse ma bisogna verificare se ve ne siano altre interessate. Se tutto andrà per il verso giusto entro la fine dell'anno verranno installati almeno in tre punti del centro abitato le macchine in cui i cittadini potranno conferire la plastica e l'alluminio con la possibilità di usufruire di buoni da spendere negli esercizi commerciali che decideranno di convenzionarsi con il comune per questo progetto. In sostanza per ogni pezzo che verrà conferito nel compattatore si avrà diritto ad una piccola somma, solitamente si aggira intorno ai 10 centesimi a pezzo. In questo modo, spiega il sindaco Giuseppe Del Medico, riusciremo a migliorare la raccolta di plastiche e alluminio e quindi a favorire una maggiore entrata nelle casse comunali. Nel frattempo è stato avviato il servizio di raccolta degli oli esausti. I bidoni di colore giallo con un foro centrale sul coperchio sono stati collocati in tre punti diversi della città, in via Pisacane presso il mercato comunale, via Granozio davanti il supermercato MD e in via San Francesco nei pressi dell'Eurospin. Gli oli usati in cucina devono essere raccolti in una bottiglia di plastica e una volta ben chiusa con il tappo la si potrà depositare in uno dei tre bidoni.